Perugini, Pavao, nasce in Montenegro, a Cotor per la precisione, nel 1948. Il curriculum ci dice che ha navigato in lungo e in largo per il mondo, prestando servizio presso varie compagnie marittime nazionali ed internazionali. Ha lavorato anche su varie piattaforme petrolifere in Nord Europa, Africa, Sud America e Medio Oriente. Nell'ottobre del 2013, sulla nave scuola Palinuro, gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia. È uno dei dieci fondatori della comunità italiana nel Montenegro, che venne fondata nel 2004. Nominato segretario dal 2006-2007, fu poi eletto Presidente, detenendo tale carica fino a dicembre 2013. La comunità, sotto la sua gestione, è erogato dal 2004-2014 più di 100 corsi di italiano, ognuno della durata di 50 ore. Il numero di iscritti della comunità in Montenegro ha raggiunto il numero appunto di 3.500. Ha collaborato con l'Università Popolare di Trieste, grazie alla collaborazione con Conf Cooperative di Gorizia, sono stati realizzati tantissimi progetti, per i quali vale la pena ricordare quello relativo alla lavorazione di pizzo di Gorizia, il progetto Come lavorano gli alberghi diffusi, la specializzazione di guide turistiche in lingua italiana, la promozione di contatti fra 11 tour operator della Regione Friumezza Giulia con l'Ufficio di Turismo del Montenegrino, e ancora il restauro di due affreschi nella Cattedrale di Santrifone. Sono stati effettuati, grazie a lui, vari scambi culturali, folcloristici con le città di Giulianova e di Muggia. La comunità, grazie alle varie associazioni umanitarie, ha effettuato anche opere di beneficenza e con l'aiuto dell'associazione umanitaria Alvius di Monfalcone, sono stati donati all'ospedale generale di Cotor 53 letti, 50 tavoli e 50 armadietti. Il comune di Monfalcone ha donato un ascensore per disabili per l'ambulatorio della città di Tivat. La motivazione è la seguente, per Pavao Perugini, per aver sempre saputo trovare e diffondere una via di conservazione dei valori della minoranza autoctona italiana in un contesto socio-politico non sempre agevole, e coinvolto le giovani generazioni, con numerose iniziative culturali che hanno permesso di approfondire e sostenere le conoscenze dei popoli e dei territori coinvolti.